Allora Carlo, ora si va in onda, si fa finta di essere in diretta perché a Ferragosto, chiaramente siamo per cazzo. Come stamattina a Ferragosto? Si, si fa finta che Ferragosto, ancora non sei in diretta, capito? Ah no? Quindi quando sei in diretta si fa finta. Si fa finta che... Fingi, mi raccomando. Fingi, ma non... Fazzissi. Siamo con il finto di sorrezza. Zitto. Sì. Vai! Il giorno di Ferragosto e noi siamo qui con voi... A lavorare. A lavorare con Carlo Brandini Dini, un uomo tutto di un pezzo. Non dico di che, però di un pezzo. Lo sai perché siamo qui? Perché zanna l'ira per andare via. Se no anche noi si andava via. E invece non zanna l'ira. Si fa anche finta di essere poveri. Poveri come... Poveri, anzi apriamo una sottoscrizione. Guardate quest'uomo già duramente colpito dalla natura. Ricordi quell'animale che si parlò due settimane fa? Il ricordo. Ha ringraziato per il latte che gli mandano. Ah, pensate. Pensate, pur nel bisogno aiutiamo gli altri. Gli animali. Allora fate una buona azione. Oggi che pensi? Per Ferragosto. Sono tutti Agabice e Mari. Sono tutti Agabice, sono veri, però diciamo anche nomi più semplici. Agatteo. Sì, però è bello là, in questi posti di Mari, perché se arrivi e conosci uno, la moglie subito dice il suo marito, è direttore, sono tutti direttori, è un mare bello che è. Io, il resto, dice il suo marito, è dire che uno abbia detto lavora da faccinelli, che va alla merda, non ce n'è uno, sono tutti direttori. Tutti direttori. Belli. È un po' come quelli che vanno nei paesi dell'estero, sono rimasti gli unici. Poi si passano un bigliettino, se uno capisce a ritelefonare, no, non ho mai mai, non ho mai ritelefonato a quella. Ci si va oggi anche noi, Agabice. Chi la mette a menzino? Io e la macchina. Metti tutto te? Tutto te, io che faccio? Il pasto, il pasto, il pasto, il pasto, il pasto, ma se mica leggete a Verona-Vicenza l'agricola al sacco, se mangia al sacco. E porti te, porti lei. Porti un sacco? No, porti te. Decazzate, però. Sì, sì, sì. Bene. Allora partiamo, partiamo, buon ferragosto. Buon ferragosto, alla prossima, arrivederci. Ci avranno creduto. Ritino, ma tendo mai. Ci avranno creduto. Non è stata così. Tittiri, ci avranno creduto. Boh, sono la segna.